Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla statale 268 del Vesuvio, sino al 31 maggio, attiva uno scambio di carreggiata tra Taviano San Giuseppe, Vesuviano Nord e Palma Campania in direzione Angri. Sulla tangenziale di Napoli, dalle 22 di questa sera e sino alle 6 di domani, chiude lo svincolo Vomero in uscita in direzione Capodichino. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania.